Buongiorno a tutti gli esempi tecnici per guardare, leggilo come, avete Atene Vazà, Atene Vazà e Cattane Vazà, tutti insieme nell'esempio delle tecniche, in più quando praticate di Atene Vazà dovete anche imparare piano piano dove si va a colpire, se colpite che non hanno un C in questo caso e della tecnici, però un punto preciso, questi punti precisi sono i punti vitali del corpo, il coro per gli A2C, questi due tipi di mio corpo, assumono anche uno di questi, quando avete attaccato le schiaghe cacciate, è la punta del mento, ok? Quando ho attaccato un po' il ginocchio, il mio gioco, appena sotto un metro, il mio gioco, il mio gioco che abbiamo fatto oggi, ok? Perciò quando praticate il ginocchio, facciamo il ginocchio perché non stiamo guardando, pensate, Cattane Vazà, lui attacca il gioco, cercate di ricordarvi, sono punti precisi, non è uno dato a taglaccio, come capita capita, ok? 1, 2, 3, ok? 1, 2, 3, ok? 1, 2, 3, ok?